Oggi, sinceramente, abbiamo chiuso una stagione alla grande. Come aspettavamo, è stata una festa completa, quindi ci sentiamo felici tutti. Hai dato appuntamento a tutto lo stadio per il prossimo anno, quindi significa che Cavani giocava per i stassomani. Ok, ok, come dite voi, è così. Ma lasciamo vedere l'Uruguay, adesso in testa c'è il mondiale, l'Italia una persona ti fa paura. Noi pensiamo a noi, pensiamo quello che dobbiamo fare noi, dopo si vedrà è un mondiale e sicuramente sarà un conto di vincere. Uruguay è il campo ogni partita per vincere, dopo a la fine si vedrà, cosa si può fare e si può vincere.